ben ritrovati ad un nuovo episodio della rubrica parola allo sponsor dedicata a tutte le aziende che hanno aderito alla manifestazione il mese della manutenzione organizzata da iman e da team global media che vivrà nel mese di giugno siamo qui oggi con team can main sponsor della diciannovesima edizione di maintenance stories che vivrà per tutto il mese di giugno con una serie di web stories che andranno ad abbracciare tutto il mercato della manutenzione sul territorio italiano qui con me oggi c'è marianna uccellani territory sales manager e referente per la distribuzione industriale per team can italia buongiorno marianna buongiorno ecco innanzitutto ti chiedo una presentazione di team can city team can è una multinazionale americana con una vasta presenza in europa e quindi in italia grazie a centri di distribuzione impianti produttivi uffici commerciali e centri di ricerca e sviluppo siamo un'azienda con oltre 120 anni di storia e come molti sanno il nostro fondatore ha brevettato il cuscinetto rollo conico da lì poi siamo continuamente cresciuti fino ad avere oggi una vasta gamma di cuscinetti e una delle più complete gambe sul mercato a livello di supporti a questo che rimane il nostro core business si affiancano poi tutta una serie di prodotti per la trasmissione di potenza e una serie di servizi questa ampia offerta ci consente di raggiungere quasi tutti i settori industriali bene e cosa vi porta ad aderire come sponsor a una manifestazione come il mese della manutenzione noi siamo sponsor oramai da diversi anni perché per noi la manutenzione è un settore assolutamente strategico e quindi riteniamo che sia molto importante cogliere queste occasioni di confronto sia tra diverse aziende che in diversi settori si occupano di manutenzione sia soprattutto con gli utilizzatori finali ecco se ci puoi dare una breve preview di quello di cui parlerete durante il vostro webinar nel nostro webinar andremo a presentare alcuni prodotti che abbiamo in gamma che sono non solo innovativi ma in alcuni casi unici sul mercato che possono andare a sostituire prodotti standard ma apportando dei benefici a livello di manutenzione presenteremo inoltre dei casi applicativi focalizzandoci sul food and beverage perché è un settore per il quale negli ultimi anni abbiamo ampliato la nostra proposta di prodotti bene grazie marianna grazie a timken per essere main sponsor di questa edizione del mese della manutenzione l'appuntamento è dunque per il mese di giugno